Massimo, dove ci mandano adesso? Cristian, siamo ripartiti nel tempo per il nuovo film di Natale! E certo, l'avventura continua! E vai! Anche quest'anno, a Natale, Massimo Boldi e Cristian De Sica vi porteranno a spasso nel tempo! Bella fighetta della fratteria! Portami via, se non lo spacco i due! In un nuovo, travolgente e divertentissimo viaggio virtuale! Che bello, che bello! Ho suonato con i Beatles! Ribelli bastardi, siete due mercenari! In Inghilterra gli unici italiani mercenari sono Vialli, Zola e Di Matteo che giocano al Chelsea! Sono il dottor Balanzone dell'Università di Bologna! Questo invece è il mio assistente, dottor Vasco Rossi, una vita spricolata! Vedi che pacchia, stani 60! Sorrede Las Vegas! E chi m'ammazza? Ma che papà? Quale papà? Chi vi conosce? Anto! Ma che fai? Stai su tu ma? Ma quella è mamma! Allora se quella è mamma! Mamma, è arrivato papà! Ma come avete fatto a sposarlo? Che sta rappresentando la schifezza da schifezza da schifezza da schifezza! Ma va a pangul! Ma chi è sto matto? Ne rimarrà soltanto una! Highlander! Va a farla venita! Anche quest'anno l'appuntamento da non mancare è... ...a spasso nel tempo! L'avventura continua! ... ... Grazie a tutti.